E adesso un invito a teatro dal 13 al 18 marzo al Teatro Ghione di Roma andrà in scena dopo il silenzio con Sebastiano Lomonaco che salutiamo Elisabetta Pozzi che salutiamo, Turi Moricca che salutiamo Lo spettacolo è tratto dal libro Liberi tutti di Pietro Grasso che salutiamo anche lui Un appuntamento da non mancare mi raccomando Teatro Ghione